ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video tutorial dedicato ad after effects e al plugin di element 3d oggi vediamo come realizzare un effetto ologramma su un modello tridimensionale ma prima iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto cliccando sul pulsantino nella home page detto questo iniziamo cari amici della community ben ritrovati volevo innanzitutto ringraziarvi per il supporto che date al canale attraverso gli abbonamenti e le donazioni che non sono davvero un aspetto così scontato quindi grazie di cuore e per sdebitarmi nella sezione della community troverete il modello della navicella spaziale 3d usata nel tutorial e un'altra piccola sorpresa quindi ci portiamo su after e creiamo una nuova composizione full hd da 20 secondi che rinominiamo ologramma all'interno della quale inseriamo un tinta unita con il control y che rinominiamo e 3d su cui applichiamo il plugin di element e ancora una videocamera a due nodi entriamo quindi nell'interfaccia dedicata e andiamo a inserire il nostro modello che in questo caso io ce l'ho nella mia libreria ma a voi basterà premere il pulsante import e andarlo a pescare una volta scaricato che vedete è un modello davvero carino comprensivo anche di texture ora una tecnica davvero interessante da usare per ottenere questo effetto è quello di riuscire a ottenere solo i contorni visibili del modello sia degli interni che degli esterni e per fare questo non dovremo usare materiali come il vetro ma bensì lavorare sulla diffusione dei materiali in combinazione al suo metodo diffusione quindi apriamo il contenuto per vedere i livelli materiali da cui è costituito e apro una piccola parentesi infatti può capitare di trovare modelli 3d che hanno un solo livello materiale il che renderebbe la preparazione davvero molto snella ma anche con tante limitazioni tuttavia su alcuni più complessi i materiali possono essere molteplici e infatti in questo caso abbiamo il modello con parecchi livelli materiale quindi con pazienza partendo dal primo che selezioniamo portiamo il parametro di diffusione a zero e dalle sue avanzate all'interno dei metodi diffusione lo portiamo in modalità screen poi passiamo al secondo livello azzeriamo il diffuse e lo portiamo dalle sue avanzate in modalità screen e ripetiamo questa procedura per tutti i livelli materiali presenti e anche se è un lavoro facile ma un po' noioso alla fine ci permetterà di sfruttare alcune funzioni del plugin quindi nel frattempo vi comunico che se volete imparare a usare element 3d c'è il mio corso completo su udemy oppure potrete visionarlo previo abbonamento direttamente sul canale detto questo una volta terminate le assegnazioni avremo il modello che sembra di vetro trasparente con tutte le sue parti visibili anche quelle interne ora andiamo a dargli un aspetto più olografico quindi torniamo su after e attraverso il movimento della camera lo andiamo a posizionare più vicino al centro del monitor e anche un po' leggermente in prospettiva quindi sul livello inseriamo come primo un effetto curve e impostiamo il canale alfa e lo portiamo verso le luci per schiarirlo un po' poi aggiungiamo un effetto gratuito che potete trovare sul sito di video copilot che si chiama color vibrance e che trovate da scaricare nella sezione della community all'interno della lezione dove diamo un colore azzurro tipico degli ologrammi dove in questo caso uso il codice esadecimale 00 a 8 ff a questo punto essendo che il modello aveva varianti di bianco e nero aggiungiamo un effetto tinta che posizioniamo sopra il color vibrance e assegniamo sia ai bianchi che ai neri lo stesso colore azzurro direttamente dalla pipetta del campionatore ancora andiamo ad aggiungere del bagliore dove utilizzo il plugin del deep glow ma se non lo avete potete usare più strati dell'effetto bagliore dai predefiniti di after dove in questo caso lascio i valori predefiniti del radius ed esposizione perché vado a correggere il tutto sfruttando la curva del canale alfa e trovato l'aspetto che più ci piace aggiungiamo un effetto di tonalità e saturazione dove abbassiamo in negativo di poco la proprietà di tonalità composta direttamente dalla sua manopola diciamo con qualcosa come meno 4 così da ottenere un colore azzurro ancora più brillante bene ora che abbiamo la nostra navicella come prima cosa andiamo inserire un fondale dove utilizzo questa bella foto molto futuristica che vi lascio da scaricare nella sezione della community la trasformo in 3d e la adatto alla composizione poi aggiungo un effetto di tre tonalità dove associo ai mezzi toni un azzurro abbastanza desaturato e potete inserire lo stesso utilizzando il codice esadecimale 3 e 6 0 7 f e porto la fusione dell'effetto attorno a un 50 per cento a questo punto ci spostiamo sul particle replicator del gruppo 1 di element dove andiamo a creare un'animazione sulla rotazione quindi a tempo zero accendo la proprietà dell'asse y poi vado a 20 secondi e gli imputo un giro completo bene ora un metodo semplice e veloce per farla apparire progressivamente in tutte le sue parti 3d senza dover sfruttare mascherini del world position o del z deft è quello di sfruttare un'opzione presente nei render settings del plugin ovvero la camera cut off come il nome suggerisce serve per tagliare la visuale della camera che deve o non deve visualizzare ma attenzione se animate la videocamera dovrete poi animare anche questo taglio quindi a tempo zero porto al minimo il camera near plane mentre accendo l'orologio della proprietà far plane e abbasso il suo valore fino a quando la navicella non viene esclusa dal campo visivo della camera creando questa sorta di taglio fino a che non scompare poi andiamo a qualcosa come 3 secondi e qui aumento il parametro in modo che il campo della videocamera aumenti e quindi inquadri tutta la scocca rivelandola progressivamente diamo anche una regolazione automatica e adesso ci spostiamo circa 8 secondi e dal gruppo del particle onlook entriamo nel multi object e lo attiviamo dalla casella e considerando che la separazione delle parti dipende anche dalla costruzione del modello andiamo giusto ad animare qualche proprietà quindi a 8 secondi accendiamo il display random e anche i suoi singoli assi x y e z poi accendiamo anche lo scatter multi e dai suoi assi individuali accendiamo solo quello y a questo punto ci spostiamo con la linea temporale a 9 secondi e qui cambiamo il valore del display random portandolo a un 75 per cento poi dai singoli assi gli diamo a quello x un valore di 1,15 poi a quello y a 0,30 e a quello z con un valore a 0,70 poi lo scatter multi lo portiamo con un valore a 6 e su quello y individuale un valore di 1,6 ma poi capite che le combinazioni possono essere svariate e anche in base al vostro gusto personale ma soprattutto dipende anche molto dalla divisione delle parti dei modelli che usate che come vedete su questo di base non sono proprio eccezionali ma ci accontentiamo diamo quindi una regolazione automatica e con i fotogrammi chiave selezionati entriamo nell'editor grafico dove diamo una curva in modo che la partenza sia molto veloce e rallentia all'arrivo a questo punto copiamo tutto il set dei fotogrammi chiave con il ctrl c ci spostiamo con la linea temporale quanto vogliamo duri questa sorta di esplosione della navicella diciamo andiamo a 13 secondi e con il ctrl v li incolliamo e avendoli selezionati andiamo a invertirli dall'assistente fotogramma quindi li inseriamo nel loro senso temporale correggiamo eventualmente l'inquadratura e la posizione della navicella e mandiamo in riproduzione per avere così il nostro effetto olografico tridimensionale ora essendo che questo ologramma è una proiezione digitale dobbiamo creare il proiettore con i suoi relativi fasci di luce 3d che ruotano insieme al modello e per quanto ci siano vari modi per ottenerlo voglio usare il plugin di video copilot chiamato optical flare che è uno strumento a mio avviso davvero utile e versatile oltre a rendere il tutto molto realistico e professionale quindi inseriamo un tinta unita che lo ospiti che rinominiamo proiettore sul quale inseriamo il plugin dell'optical flare entriamo nella sua interfaccia dedicata e dai preset browser entro nella cartellina light che contiene un preset chiamato green spot light e che se non lo avete ve lo lascio da scaricare come preset nella sezione della community lo seleziono e lo metto in solitaria solo con i fasci di luce che mi interessano senza alcun tipo di riflesso o aberrazione del caso quindi diamo ok e torniamo su after dove come prima cosa lo porto dal render mode in modalità su trasparente poi dai suoi parametri di posizione cerco di allinearlo a questo cerchio sul pavimento in modo che la luce punti dal basso verso l'alto poi ancora lo andiamo a scalare con un valore diciamo attorno ai 30 dopodiché lo andiamo ad accendere in maniera coerente all'apparizione dell'ologramma quindi a tempo zero porto il brightness a qualcosa come 10 poi vado a un secondo circa e lo porto a qualcosa come 350 diamo lo stesso colore ai fasci campionando con la pipetta direttamente il colore sul modello poi per farla ruotare andiamo sulla proprietà del rotation offset dove applichiamo un'espressione per automatizzare il movimento quindi facciamo alta più clic sull'orologio e scriviamo time per 10 adesso rendiamo più sfocati questi fasci di luce applicando un effetto di sfocatura di quadri rapida lo vediamo in maniera soggettiva il valore che preferiamo in questo caso facciamo qualcosa come 12 pixel e abbassiamo il cursore del center position più o meno a metà strada tra i due o comunque in base a quanto volete che i raggi siano più o meno evidenti bene ora abbiamo una bella immagine perfettamente nitida per cui vi do qualche consiglio su come sporcarla per ottenere risultati differenti quindi come prima cosa andiamo ad aggiungere un effetto chiamato aggiungi granulosità dove impostiamo l'output finale e usiamo uno dei suoi predefiniti in questo caso dal menu scelgo il codec vision 320 t poi ancora andiamo ad aggiungere un effetto veneziane dove portiamo il completamento transizione al 10% una direzione a 90 gradi e una larghezza a 3 mentre la sfumatura deve stare a 0 poi prendiamo l'effetto e lo andiamo a mettere sopra le curve così da non alterare il colore e luminosità del modello così se facciamo uno zoom possiamo vedere le classiche linee tipiche di una proiezione e che comunque resta una scelta facoltativa invece ora un trucchetto per creare un disturbo simile a un'interferenza che si alterna nel tempo potrebbe essere quello di inserire un effetto di spostamento turbolenza che andiamo ad aggiungere dove dal menu impostiamo la modalità di spostamento orizzontale diamo una dimensione di 2 una complessità di 10 e applichiamo un'espressione alla proprietà di evoluzione facendo alt più clic sull'orologio dove scriviamo time per 50 adesso per fare in modo che questo disturbo si alterni nel tempo con dimensioni casuali inseriamo un'espressione anche alla proprietà di quantità dove scriviamo wiggle aperta parentesi 1,250 chiusa parentesi significa che ogni secondo avremo uno spostamento che può variare con valori che oscillano tra lo 0 e i 250 ottenendo così questo particolare disturbo simile appunto a un'interferenza quindi non vi resta che combinare i vari effetti in base al vostro gusto personale ma andiamo in riproduzione e avremo il nostro effetto olografico tridimensionale bene ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial se poi volete entrare a far parte della grande community di Krypton VFX potete sottoscrivere un abbonamento a meno di un caffè a settimana infatti con 3,99€ al mese che potete sospendere in qualsiasi momento potrete accedere all'area dedicata nella quale visualizzare tutte le 250 lezioni specifiche del corso di After Effects dove toccheremo veramente tutti gli aspetti di questo fantastico software per imparare a usarlo in maniera approfondita in più accedere al corso completo del plugin di Element 3D per integrare il mondo del 3D all'interno di After Effects ancora il corso di Duik Basel 2 per imparare ad animare e rigare i vostri personaggi una guida mocha per effettuare tracciamenti professionali e una guida completa per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects e creare così stupende mappe animate ma non è tutto perché dove possibile vi lascerò file di progetto e asset scaricabili direttamente nell'area della community per cui vi ringrazio di cuore per il vostro supporto che è fondamentale per lo sviluppo del canale e vi do appuntamento al prossimo video ciao